I pazienti hanno sentito spesso di avere accanto a sé degli angeli, che li hanno aiutati a recuperare la salute e nello stesso tempo li hanno consolati, sostenuti e a volte accompagnati fino alle soglie dell'incontro finale con il Signore. Questi operatori sanitari, sostenuti dalla sollicitudine dei cappellani, degli ospedali, hanno testimoniato la vicinanza di Dio a chi soffre. Sono stati silenziosi artigiani della cultura della prossimità e della tenerezza. E voi siete stati testimoni, anche nelle piccole coste, nelle carezze, anche col telefonino collegare quell'anziano che stava per morire, col figlio e la figlia per congedarle, per vederle l'ultima volta, piccoli gesti di creatività, di amore. Ma ci ha fatto bene a tutti questo, testimonianza di prossimità e di tenerezza.